La troupe di Striscia la Notizia con a capo Valerio Staffelli ha consegnato questa mattina il tapiro d'oro al direttore generale della ASL di Teramo Roberto Fagnano. La redazione della famosa trasmissione televisiva è stata allertata nei mesi scorsi per i parcheggi riservati ai disabili nella struttura sanitaria incontrata a Casalena, spesso occupati da dirigenti e dipendenti del servizio di prevenzione della ASL. Così Valerio Staffelli si è recato nella sede della ASL di Teramo in Circonvalazione Ragusa per consegnare il famoso tapiro al direttore generale. Il manager Fagnano ha accettato e ringraziato Staffelli e la sua troupe per averlo messo al corrente delle pessime abitudini di alcuni dipendenti e ha promesso che a partire da oggi adotterà una linea dura nei confronti di chi non rispetta le norme anche applicando sanzioni disciplinari. Valerio Staffelli ha apprezzato le dichiarazioni del direttore Fagnano e ha detto, come d'abitudine, che tornerà a trovarlo tra qualche tempo per verificare se le promesse saranno state mantenute.